Sì, a fare i denti a contatto, certo mi sistemo i cappelli. Da quando ho 17 anni che vengo qua a farla. Siamo nel 2017, quindi da 2000 anni, no? Che mi conosce, all'incirca. Beh, vediamo come sto. Qua in questo palazzo c'è un po' di roba, è ben fornito. Siamo a Missori. Missori tra l'altro anche uno stato americano. Poi addirittura, vediamo un po' cosa c'è qua. Ostia, c'è il consolato della Malesia. Eh, si vede che hai ragione di morale. No, no, stavo parlando con lei. No, stavo parlando con lei. No, va bene. No, siamo andati su a fare gli eventi. Eh, siamo andati piano appunto per farlo. Arrivederci. Ci siamo consolati abbastanza. Bumumaria. Buon no, famiglia. No, это Asia! Italia! 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 Italia!